benvenuti ad una nuova puntata della rubrica face to face oggi siamo in compagnia di stefano grassi presidente affida ben trovato stefano ciao jennifer grazie un saluto a tutti e con luca sfienti manager e responsabile dell'area piemonte di affida ciao luca ciao jennifer buona giornata con loro oggi parliamo della nascita di casa credito che è destinata a diventare la rete captive dei mutui di vendocasa vendocasa che è un gruppo che conta oltre 80 agenzie immobiliari e finora ha lavorato in forte sinergia con affida e continuerà a farlo perché a garantire questa continuità sarà proprio luca sfienti che al ruolo di manager di affida affiancherà anche quello di amministratore di casa credito e allora proprio da luca partirei per chiedergli un po' a retroscena di queste operazioni quelli che sono gli obiettivi della nuova società quindi partiamo con ordine come è nata la relazione con vendocasa ma innanzitutto grazie jennifer dell'invito la relazione con vendocasa nasce diversi anni fa da una conoscenza semplicissima che si è sviluppata in una collaborazione una collaborazione fra un gruppo immobiliare che non era ancora comunque delle dimensioni di oggi era un gruppo immobiliare che si stava strutturando ma che aveva già tantissima ambizione è passata poi da da consentimi il termine anche dall'annusarsi reciprocamente no quindi dal capire reciprocamente con chi aveva ma che fare in maniera reciproca è passata da delle divergenze perché poi è giusto anche dire come sono le cose per poi però appassionarsi entrambi a un progetto comune loro da sempre volevano affiancare allo sviluppo del loro network immobiliare una loro società di mediazione del credito io in questi ultimi anni mi sono sono rimasto affascinato dal loro senso d'appartenenza dal loro modus operandi nell'ambito immobiliare e quindi è stato quasi automatico nel momento in cui poi loro hanno avuto modo anche di conoscere Stefano e confrontarsi con Stefano creare un qualcosa che fosse di vendocasa ma che prendesse anche le capacità le conoscenze e l'expertise di della nostra azienda che raffide della inatta casa credito Che obiettivi ti sei posto per il prossimo anno con casa credito? Ma il primo obiettivo è quello di creare una rete iniziare a creare una rete commerciale noi abbiamo la grossissima fortuna che loro oggi sono presenti già in diverse regioni sono davvero molto innamorati della loro azienda innamorati di tutto quello che la loro azienda gli mette a disposizione quindi il mio obiettivo è mettere a disposizione di ogni singola agenzia dei broker del credito per davvero soddisfare anche le esigenze finanziarie dei loro clienti e gli obiettivi poi sono sono ambiziosi perché vendocasa ha dimostrato di essere un gruppo ambizioso e che ha fatto grosse cose e perché a bordo abbiamo Stefano che ha dimostrato come in quattro anni si può creare un'azienda e farla diventare ok e portarla ad essere una delle principali aziende del settore quindi ci sono ottimi presupposti per fare molto bene io vorrei farti una domanda che si sono posti immagino un po' a tutti in che modo pensi che riuscirei a conciliare il tuo ruolo in affida con il tuo ruolo in casa credito ma sai secondo me uno può essere complementare all'altro mi spiego meglio sono due ruoli ben distinti e ben divisi io in affida io sono un produttore perché in primis sono un produttore oltre a essere anche uno dei manager che ha partecipato quattro anni fa con Stefano alla nascita di questa azienda quindi sono un produttore e sono un manager che coordina una rete sul Piemonte che fra l'altro l'anno scorso è stata anche la primaria dell'azienda quindi lo dico anche un po' con orgoglio nei confronti di tutte le persone che fanno parte della 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 rete del Piemonte è quello che continuo a farlo no di sicuro delegherò qualcosina a dei miei colleghi che meritano di crescere perché è importante anche che alcuni colleghi meritevoli nel nella nostra area crescano mentre in casa credito avrò un ruolo di amministratore che cosa vuol dire vuol dire detto fra di noi anche un ruolo che devo imparare a fare no Jennifer perché un conto è fare mutui e un conto puoi fare altro ma lì dovrò contribuire a creare nel prima possibile la rete commerciale nel mettere casa credito nella condizione di operare con più istituti di credito possibili e se vogliamo di avere anche essere riconosciuti dalle banche con la stessa credibilità che oggi riconosciuta FIDA quindi questi sono i principali obiettivi no perché è importante la rete commerciale ma dall'altra parte è importante anche il modo in cui le banche percepiscono il nostro operato benissimo allora io ti faccio il migliore in bocca al lupo e congratulazioni per il tuo nuovo incarico grazie Jennifer e passerei invece a Stefano per chiedergli un po di inquadrare questa operazione nell'ambito della strategia di affida quindi diciamo possiamo considerarla episodica oppure parte di un disegno strategico un po più ampio e poi possiamo aspettarci anche delle partnership con altri network immobiliari grazie della domanda Jennifer allora sicuramente non è episodica si tratta di un'operazione che rientra in un in un disegno più ampio che tra l'altro non abbiamo neanche mai tenuto particolarmente celato no nel senso che fin dall'inizio abbiamo impostato la nostra strategia in modo importante ancorché non esclusivo sul sulla relazione con il mondo immobiliare facendo anche investimenti impegnativi da questo punto di vista perché comunque abbiamo messo in piedi una piattaforma di servizi per le agenzie immobiliari che si chiama affidare 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 punto casa e dove ci sono ben 30 servizi e che possono risultare molto funzionali a quella che è l'attività degli operatori immobiliari sul territorio gli agenti immobiliari e oggi su questa piattaforma sono iscritti 750 agenti immobiliari che collaborano con noi in crescita peraltro quindi l'obiettivo è quello di scalare questi numeri anche in termini piuttosto rapidi come tra l'altro sta accadendo sta avvenendo abbiamo fatto un investimento in un portale immobiliare di inserzioni che si chiama vivo qui sul quale tra l'altro a breve saremo diciamo ancora più protagonisti perché ci sono diciamo in procinto di essere avviate delle nuove tattiche che riguardano proprio relazione tra affida e vivo qui e abbiamo anche nel corso diciamo del nostro breve ma intenso diciamo lustro primo lustro perché ormai siamo quasi per spegnere la quinta candelina la quinta candelina abbiamo tessuto relazioni con più o meno piccoli perché poi insomma dipende il piccolo grande dipende sempre da qual è il come dire il driver che prendiamo come riferimento comunque da network immobiliari diciamo di territorio quindi noi abbiamo delle relazioni ad esempio anche nel Lazio oltre che in Piemonte ma anche in Lombardia di partnership esclusiva e molto radicata con alcuni network quindi sicuramente da cosa nasce cosa anche la descrizione che ha fatto Luca del rapporto con Vendo Casa si è originato da quella che era una normale relazione commerciale sul territorio e poi conoscendoci è diventata qualcosa di più quindi è un assolutamente escluso diciamo che da parte nostra c'è ampia disponibilità a farlo abbiamo insomma diciamo una visione abbastanza aperta e una disponibilità operativa e anche grazie al cielo di risorse per poter gestire anche delle operazioni anche di investimento anche importante se ci vediamo ovviamente il business per noi e per la nostra rete quindi per l'azienda ma significa poi per la rete perché come sappiamo le nostre aziende sono di fatto rete centriche nel vero senso della parola perché senza le reti non valgono niente possiamo quindi aspettarci anche qualche altra novità nei prossimi mesi? Indubbiamente sì e alcune sono già diciamo pronte per essere sfornate quindi una tra l'altro a brevissimo quindi probabilmente ci rivedremo e ci risentiremo molto presto Benissimo allora io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a prestissimo a questo punto Senz'altro grazie Jennifer e un saluto a tutti grazie Grazie mille e ciao Jennifer